Martedì, al nord pressione in aumento. Fatta eccezione per qualche rovescio sulle Alpi orientali, altrove il tempo risulterà stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento. Mercoledì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo stabile ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature in aumento. Al centro, pressione non così salda. Nel corso del giorno potranno verificarsi dei veloci rovesci temporaleschi sul versante adriatico, con rischio di locali grandinate. Mercoledì, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in graduale aumento. Al sud, pressione sempre piuttosto debole. Nel corso del giorno potranno verificarsi dei temporali anche intensi su gran parte dei settori. Temperature generalmente stazionarie. Mercoledì, pressione in lieve aumento. Al mattino saranno possibili ancora delle piogge sulle coste tirreniche siciliane, nel pomeriggio qualche temporale sui settori montuosi. 焦